Anticipazioni Tempesta d'amore Lunedì 14 ottobre 2019 Eva e Christophe trovano un rifugio di fortuna, ma la loro situazione è veramente preoccupante. Sono al freddo e al gelo, senza provviste e rischiano di non farcela. Uno dei suoi, inoltre, è ferito in maniera molto grave. Al Fustenhoff intanto si respira un'aria di forte apprezzione. Robert pensa al peggio, mentre le figlie di Christophe finanziano le ricerche e si concentrano su di esse, tralasciando i loro problemi. Joshua potrebbe scoprire presto una verità molto amara sul suo amico pilota. Tina intanto sta malissimo e dimostra tutti gli effetti di non riuscire a rifarsi una vita, in quanto vive ancora nel ricordo di David Hofer. Ciao! Grazie per la visione!